Bentornato Goodyear, bentornata. Con questa lezione terminiamo la spiegazione del pannello delle impostazioni. È ora il momento di aggiornamento e sicurezza. Tramite questo pannello puoi verificare lo stato del sistema operativo affinché sia aggiornato ed in caso contrario provvedere a realizzare una condizione di aggiornamento. Potrai anche gestire la sicurezza con le impostazioni e programmi dedicati. Infine la realizzazione di un backup ed eventualmente un ripristino dello stesso nel caso di Serba. Come accedi? Naturalmente dal pulsante Start vai ad individuare l'icona ingranaggio ed infine da questa interfaccia clicca sul pulsante aggiornamento e sicurezza. Otterrai una seguente lista Windows Update, Windows Defender, Backup, Ripristino, Attivazione, Per sviluppatori, Programma Windows Insider. La prima sottosezione ti consente di verificare se il sistema operativo è aggiornato ed eventualmente cliccando sul pulsante verifica disponibilità aggiornamenti che ve ne siano disponibili ed eventualmente provvedere per l'installazione. Col pulsante cronologia aggiornamenti puoi visionare la cronologia appunto degli aggiornamenti che hai installato e nel caso di Serba potrai anche rimuoverli. Ancora sotto trovi impostazioni aggiornamento una sezione con dei pulsanti che ti permetteranno di verificare l'ora per l'installazione degli aggiornamenti e il riavvio per non ostacolare la tua attività di lavoro. Le opzioni avanzate ti consentono anche di scegliere che tipo di aggiornamenti installare. La sottosezione Windows Defender permette di gestire le funzionalità dell'antivirus che hai integrato in Windows 10, appunto il Defender. Puoi aprire direttamente l'interfaccia dell'antivirus per visionare ed eventualmente cambiare le sue impostazioni. tramite questo pulsante apri Windows Defender. Se vuoi la protezione di questo antivirus dovrai attivare il cursore per la protezione in tempo reale. Questo antivirus però non può essere disattivato definitivamente se non andando ad interagire con il registro di sistema, quindi attenzione e per questo motivo ti rimando a guide dedicate online che sicuramente troverai a bizzeffa. Altri due cursori ti permetteranno di inviare eventualmente in maniera automatica dati o file alla Microsoft per eventuali diagnosi di sicurezza e quindi fornirti una maggior protezione a te la scelta se attivare o meno questa interazione con la Microsoft. Ancora più sotto trovi una sezione chiamata esclusioni nella quale potrai aggiungere file da escludere alla scansione di questo antivirus ma questo potrà comportare delle problematiche di sicurezza se ad esempio in maniera più o meno volontaria escluderai dei file di cui non conosci le caratteristiche o la provenienza. Quindi fai attenzione se dovessi introdurre delle cartelle o dei file da escludere all'interno di questa sezione. un cursore per le notifiche ti permetterà di attivare appunto le notifiche in modo da far sì che il sistema operativo ti allerti nel caso in cui dovrai agire per migliorare la sicurezza del pc come eseguire aggiornamenti dei programmi o rilevamenti vari da parte dei sistemi di sicurezza. L'opzione windows defender offline consente all'antivirus di poter eseguire una scansione a freddo riavviando il computer quindi potendo eliminare così dei file dannosi che altrimenti sarebbe impossibile rimuovere quindi avrai un riavvio del pc. La sezione finale dà invece informazioni sulla versione del sistema antivirus e le definizioni dell'archivio dei virus. La successiva sottosezione backup è già bella che è spiegata naturalmente perché ti permette di creare un archivio di sicurezza appunto un backup per file importanti su unità esterni che siano periferiche oppure un hard disk secondario all'interno del pc in modo da poter ottenere una copia di sicurezza che ti potrà tornare utile nel caso di perdita o corruzione di file o eventualmente contaminazione da malware. Potrai anche creare un file immagine del sistema operativo per il ripristino qualora tu ne abbia la necessità. La sottosezione ripristino ti consente di ripristinare appunto dopo un backup dei file oppure l'intero sistema operativo. Potrai rimpostare completamente il sistema operativo all'origine e decidere di mantenere o meno i file all'interno del pc. Quindi attenzione se dovessi attingere a questa risorsa prima naturalmente fai un backup dei due file. In alcuni casi subito dopo l'installazione per un aggiornamento avresti addirittura l'opportunità solo per alcuni giorni di tornare alla versione precedente file che verranno rimossi dopo un certo periodo di tempo fin massimo a circa 30 giorni. La sezione avvio avanzato ti permette di riavviare il pc da unità esterne come pendrive o dvd oppure modificare le impostazioni del video di windows oppure ancora avviare ripristino del pc. In alternativa potrai anche eseguire un'installazione pulita del sistema operativo come ormai sei già maestro sei già maestra viste le lezioni precedenti. Nella sottosezione attivazione andrai a controllare lo stato di attivazione del sistema operativo e attivarlo qualora non lo fosse. Potrai anche aggiornare il product key se lo dovrai cambiare e addirittura aggiungere un account microsoft per l'accesso a windows 10 come abbiamo visto nelle lezioni precedenti. La menultima sottosezione per sviluppatori non riguarda noi diciamo. Questa sezione infatti è dedicata agli sviluppatori software oppure smanettoni più performanti ci diventeremo. In realtà un minimo di impostazioni potrebbero anche tornarci utili in questa sezione. Sarà sufficiente infatti andare a leggere i vari segni di spunta e impostazioni e attivare o meno quelle che più ti potranno ritornare utile in base alle necessità, in base all'utilizzo del tuo pc, del sistema operativo come ad esempio l'individuazione dei dispositivi oppure la visualizzazione di esplore risorse o ancora il controllo in remoto del tuo pc. Cursori o segni di spunta che ti consentono quindi di rendere più snello l'utilizzo del dispositivo o la visualizzazione appunto dei contenuti. L'ultima sottosezione programma windows insider ti permette di partecipare gratuitamente al processo di sviluppo del sistema operativo che ormai è in atto da diverso tempo e probabilmente durerà per molti anni nella quale potrai sperimentare le novità che la Microsoft inserisce man mano in windows 10 prima che vengano rilasciati enormemente tramite il canale windows update. Potrai essere così un pioniere nella scelta nell'utilizzo e anche nel contribuire allo sviluppo di windows 10. Aiuterai a questo punto la Microsoft a rilasciare grazie al tuo supporto un software quanto più stabile possibile. Qual è l'effetto collaterale del partecipare a questo programma. Dato che utilizzerai un software ancora non molto performante potrai avere la macchina stabile quindi con dei blocchi del sistema operativo o addirittura avere problemi anche di utilizzo di hardware in quanto non saranno magari rilasciati driver aggiornati in virtù di queste anteprime. A te la scelta se partecipare a questo programma ma potrebbe essere anche un modo interessante di diventare un pioniere nella scelta del sistema operativo. Eccoci qui in zona pratica. Pulsante start. Icona ingranaggio delle impostazioni. Andiamo a cliccare sul pulsante aggiornamento e sicurezza. Come puoi vedere in questo caso avendo accesso ad internet il sistema in maniera automatica sta andando ad individuare eventuali aggiornamenti presenti e sta già iniziando il download. Qualora non fosse presente questa situazione avrai il pulsante di controllare gli aggiornamenti e quindi potrai avviare questa procedura. Il pulsante cronologia aggiornamenti ti dà la lista degli aggiornamenti che sono installati in questo computer con eventuali notifiche qualora non fosse riuscita questo aggiornamento. Clicchiamo sul primo e otteniamo delle informazioni dedicate su quel che è l'aggiornamento magari anche rimandandoti ad una pagina della Microsoft che spiega questo specifico aggiornamento. Come puoi vedere puoi disinstallare gli aggiornamenti che eventualmente hai inserito dopo che viene srotolata la lista. Cliccandoci sopra potrai ovviamente disinstallarlo qualora uno di questi aggiornamenti non ti fosse necessario o creasse problemi al sistema. Qui hai un'opzione che vedremo a breve. Nella sezione impostazione aggiornamento hai dei pulsanti che ti permettono di cambiare l'orario dell'attività che significa potrai decidere di riavviare il pc quindi installare gli aggiornamenti in un orario più consono salvando le impostazioni in modo da non ostacolare il normale tuo lavoro in modo da evitare un riavvio oppure un rallentamento dovuto a questi aggiornamenti. Il pulsante opzioni riavvio se fosse attivo ti permetterà di selezionare un'ora ed eventualmente il giorno per poter riavviare il sistema operativo. Altro pulsante opzioni avanzate ti permette di scaricare eventuali aggiornamenti per altri prodotti Microsoft durante l'aggiornamento della Microsoft ma è sempre bene decidere nel limite del possibile di installare soltanto aggiornamenti relativi a programmi installati. Attivando questo segno di spunta ritarda aggiornamenti delle funzionalità avrai un ritardo degli aggiornamenti dopo che sono stati scaricati. Anche questo potrebbe essere utile per non ostacolare il tuo lavoro. Tramite questo segno di spunta potrai far configurare automaticamente il dispositivo dopo l'aggiornamento quindi configurare il dispositivo dopo che il sistema operativo sia aggiornato grazie alle informazioni di accesso al sistema operativo. Il pulsante scegli come recapitare gli aggiornamenti ti dà la possibilità utilizzare il tuo computer condividendo le informazioni condividendo gli aggiornamenti che hai installato per non caricare i server della Microsoft. Quindi in pratica metterai a disposizione la tua macchina e la tua banda per aggiornare eventuali computer della tua rete oppure altri pc di altri utenti Windows in base a quello che selezionerai da questi segni di spunta. Ma io disattivarei questa opzione. Torniamo alla sezione precedente. Andiamo a visionare le impostazioni di Windows Defender. Cliccando sul pulsante apri Windows Defender si aprirà l'interfaccia dell'antivirus che ti permetterà di interagire con lo stesso eseguendo delle impostazioni oppure addirittura già da qui avviare un'analisi del tuo sistema operativo e quindi dei tuoi hard disk o periferiche in maniera veloce, compatta o personalizzata dopo che naturalmente il sistema sia ben aggiornato. Cosa che puoi visionare cliccando su questo pulsante e avviando l'aggiornamento delle definizioni. Chiudiamo questa operazione. Troverai dei cursori che ti permetteranno di attivare o meno la protezione in tempo reale. Aprendo Windows Defender come puoi vedere in questo caso è disattivata la protezione in tempo reale e hai avuto in basso a destra la notifica di quanto appena accaduto. Puoi riattivarla direttamente da questo pulsante oppure attivarlo da questo cursore. Come nota anche se disattivi la protezione in tempo reale se rimani disattivata per un po' di tempo verrà riattivata automaticamente. Se vuoi eliminare il Windows Defender dovrai interagire sul registro di sistema. Poi questi due cursori permetteranno di migliorare la protezione del sistema operativo sulle informazioni che potrai inviare in tempo reale tramite il Windows Defender alla Microsoft oppure addirittura dei file che potranno essere analizzati dalla Microsoft stessa in modo come detto di aumentare la protezione del sistema operativo. Scorrendo in basso troviamo il pulsante esclusioni che ti permetterà di aggiungere dei file o delle cartelle o addirittura tipologie di file in base all'estensione .eseguibile .html o .pdf come vorrai tu. L'importante è che tu sia cosciente di ciò che vai ad inserire in quanto se non conosci la provenienza o le caratteristiche di un file, di una cartella o di un determinato programma come ad esempio le eseguibili .com o SCR potresti inficiare la sicurezza del tuo computer e creare dei danni grossi al sistema operativo ed eventualmente anche alla tua privacy. Sotto trovi un cursore delle notifiche e se lo disattivi non avrai più notifiche come hai visto in precedenza da parte del sistema operativo ma le lascerei attive queste opzioni. Il pulsante analisi offline ti permetterà di riavviare il PC e il Defender una volta aggiornate le definizioni farà una scansione del sistema operativo e rimuoverà eventuali malware in maniera più semplice dato che alcuni file non possono essere rimossi se il sistema operativo è avviato quindi eseguirà una scansione a freddo. In basso trovi dei dati relativi alla versione dell'antivirus e le definizioni aggiornate in base ad un numero progressivo. Andiamo a vedere la sottosezione backup che ti permette di eseguire un backup dei file su unità esterna per poterli ripristinare in caso di perdita, tanneggiamento o eliminazione dei file stessi in maniera casuale o volontaria. Potrai aggiungere l'unità esterna che potrà essere o un hard disk esterno o una partizione interna del sistema operativo. Una volta selezionato puoi attivare automaticamente il backup oppure disattivarlo da questo cursore. il pulsante altre opzioni ti permette di gestire in maniera più granulare il tipo di backup che dovrai andare a eseguire in base ad un orario predefinito quindi ad intervalli regolari e nella tipologia del mantenimento del backup da un mese fino a qualche anno oppure addirittura mantenere sempre copia di backup. Qui potrai selezionare i file o le cartelle ed eventualmente rimuoverle se non ti interessano oppure aggiungere una cartella in base alle tue necessità andandola a pescare da esplora file. Scorrendo in basso puoi anche escludere delle cartelle dai backup qualora ci fossero cartelle che contengono altre cartelle di cui non hai la necessità di eseguire il backup. Qualora avessi selezionato in precedenza una periferica per interrompere il backup in questa periferica cliccherai su questo pulsante per poterne aggiungere un'altra in seguito. Questo pulsante permette di visualizzare le impostazioni avanzate dei backup in questo caso è disattivata come abbiamo appena apportato questa modifica ma potrai sempre riattivare l'esportazione dei file o cartelle precedentemente selezionati nell'unità che avrai scelto in precedenza. Altro pulsante ripristina i file da un backup corrente. Qualora tu avessi presente un backup precedentemente realizzato e volessi ripristinare questi file qui troverai una lista che ti permetterà di ripristinare i file che saranno stati cancellati più o meno volutamente oppure corrotti. Torniamo indietro andiamo a vedere l'altro pulsante se vai a backup ripristino windows 7 ti permetterà addirittura di creare un file immagine o un disco di sistema per ripristino dell'intero sistema operativo cosa che già abbiamo visto in una delle lezioni precedenti. Nella sezione ripristino hai la possibilità di rimpostare il pc se hai problemi quindi tentare di risolvere i problemi potrai decidere cliccando su per iniziare se mantenere i tuoi file o rimuovere tutto quindi simulando un ripristino con installazione pulita per questo ti rimando alle guide che già sono presenti in questo percorso. Oppure potrai decidere di riavviare il pc da periferiche usb o dvd cliccando su questo pulsante e andando poi ad impostare quale unità scegliere nel riavvio. Questo può essere utile soprattutto nei sistemi preconfigurati che presentano un BIOS UEFI e in quel caso viene bypassata questa opportunità se non esegui questo specifico passaggio. Nella sezione attivazioni potrai visualizzare lo stato del sistema operativo se è attivato o meno con licenza digitale e collegata ad un account Microsoft. Potrai anche cambiare il product key qualora ne avessi la necessità digitando il nuovo product key all'interno di questo campo. La sezione per sviluppatori naturalmente permette di gestire alcune funzionalità di sviluppatori quindi non è una sezione che ci riguarda molto da vicino in quanto non siamo degli sviluppatori tuttavia alcune impostazioni potremmo andare a gestirle in base alle nostre necessità selezionando o deselezionando dei segni di spunta in modo da ottimizzare una certa visualizzazione come ad esempio in esplora risorse in taluni casi potrà entrare nella gestione più granulare del sistema operativo in zone un pochino più complicati da gestire quindi occhio sempre alle impostazioni che vai ad eseguire. La sezione desktop remoto ti permette di modificare le impostazioni che permettono una connessione a distanza remoto a questo pc che potrebbe tornare utile in taluni casi di diagnostica o manutenzione quindi se tu vorrai fornire il tuo aiuto a persone dovrai impostare questa gestione remota del singolo computer e quindi avrai l'opportunità tramite il desktop remoto o in alternativa a programmi diverse parti di poter andare a comandare a controllare ad impostare ed eventualmente risolvere delle problematiche a computer di tuoi amici parenti oppure clienti. Infine la sottosezione programma windows insider ti permette di ricevere il rilascio in previsione dell'evoluzione delle modifiche del sistema operativo o addirittura delle nuove versioni del sistema operativo e fornire feedback alla microsoft per poter rilasciare un sistema operativo o degli aggiornamenti allo stesso quanto più stabili possibili. Questo potrebbe essere un buon viatico per imparare molte cose smanettando nel sistema operativo ricordati che però potresti avere dei conflitti nell'utilizzo delle periferiche per mancanza di software non dedicato oppure incompatibile con le periferiche stesse oppure avere dei blocchi di sistema o instabilità del sistema operativo in quanto questi stessi aggiornamenti presentano dei bug ancora da sanare. Bene nella prossima lezione ancora informazioni per questo sistema windows 10 ora come sempre un forte saluto ciao a presto tagano e dalla prossima a presto